Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. In questa c'è anche un bisogno di rappresentare una radicalità che lei pensa ci sia in elettorato. Quindi ti voglio fare questa domanda. Secondo te sbaglia o ha ragione? Cioè questo paese sotto una glassa di apparente torpore vacanziero è inquieto, appassionato, anche un po' confuso oppure è pacificato? È un paese inquieto dove la questione sociale e le diseguaglianze che partorivano nel 2018, il successo dei Cinque Stelle e della Lega sono ancora lì. Nonostante la pandemia, nonostante la guerra in Ucraina c'è un grande scontento nella pancia del paese. E io credo che lei stia tentando in maniera molto disinvolta, molto aggressiva ma anche molto efficace di interpretarlo, cioè di essere quello che furono i Cinque Stelle nel 2018. Cioè chi vuole protestare, chi è contro, trova in lei il vettore di questa espressione. E le immagini che voi avete fatto vedere sono interessantissime, ringrazio la regia di averle mostrate, confermano questo. Perché se noi andiamo a vedere il linguaggio che lei ha usato, è un linguaggio che da una parte parla agli elettori di destra che ancora non la votano, cioè diciamo quelli di Salvini. E dice io sono più aggressiva, io sono più identitario, io sono più etnica di Salvini nella sfida alla sinistra. E dall'altra dice agli elettori di sinistra state votando per il potere, quindi per quelli sbagliati, quindi votate per noi. Lei sta tentando da una parte di svuotare Salvini e dall'altra di rubare voti al PD. Questa strategia, come ha scritto ieri l'Eseco, il giornale francese, è esattamente la stessa strategia con la quale Marine Le Pen ha avuto un risultato notevole e importante alle elezioni francesi, svuotando alla destra e rubando voti a sinistra. È molto efficace e conferma che l'ondata populista nel nostro paese politicamente può ancora pagare. Interessantissimo. 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 Interessantissimo.